Abbiamo voluto pensare a questo luogo non come un canile dove accogliere i cani abbandonati e basta, ma un centro dove si possano realizzare anche dei percorsi con il territorio, con un territorio che evidentemente non conosce ancora tutte quelle ricchezze che si nascondono dietro il rapporto con gli animali. Dobbiamo cercare di togliere i cani dalle strade e dai canili soprattutto. La gente compra molti cani, sarebbe bene decidersi finalmente a far uscire cani che sono pieni di virtù e che sono confinati nei canili a vita. È stato inaugurato in Via Janfolla, alla presenza del sindaco Luigi De Magistris, il primo centro municipale di accoglienza per cani, una struttura destinata ad ospitare oltre 100 animali abbandonati, nella quale troveranno spazio diversi percorsi dedicati all'interazione con gli uomini, dalla pet therapy ai laboratori didattici per bambini, dalla profilassi sanitaria alle guardie zoofile. Attività quindi di sensibilizzazione, ma anche proiezioni di film, ci saranno tantissime cose, dibattiti, conversazioni, presentazioni di libri, sarà una struttura che bada la cultura dell'animale. La struttura, completata dopo circa 15 anni di attese, sarà gestita dal Comune, in sinergia con l'ASL, la Facoltà di Veterinaria della Federico II ed il Centro di Riferimento Regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria. È la prima struttura municipale, chiaramente verrà gestita insieme all'ASL veterinaria, all'Università e alle associazioni e al territorio, questa è la grande novità. Quindi sicuramente l'ASL ha una parte importante, ma questo è un centro municipale. Ci teniamo molto a sottolinearlo perché questa deve essere una risorsa della città e del territorio, non può essere percepita come una struttura estranea al territorio, perché dovrà essere sempre più aperta e quindi creare anche delle occasioni che vanno al di là dell'accoglienza dei cento cani che gradualmente verranno inseriti. Veramente è una bella struttura funzionale, un'ottima cooperazione istituzionale tra il Comune di Napoli, l'ASL e la Facoltà di Veterinaria dell'Università di Napoli. Ci voleva, qui c'è tutto perché sarà la sede del garante degli animali, c'è la prima accoglienza, c'è la cura, c'è la pet therapy, c'è il lavoro con le associazioni e con i cittadini, quindi anche un'opera di sensibilizzazione importante sui diritti degli animali. Siamo molto contenti perché Napoli ancora una volta dimostra di essere la città dei diritti.